La Pinotti è quella che ho corteggiatissima per quanto non sia riuscita a sfondare in Liguria però ha sfondato molto a Roma perché pare che piaccia molto sia a Renzi sia soprattutto è papabile per il Quirinale è papabilissima per il Quirinale, ha più di 50 anni, è una bella cavalcata pure lei con i militari si trova bene, sto facendo delle belle figure tranne che, diciamo la verità, in India con i Marò dove il famoso Renzi è appena nominato eletto Presidente del Consiglio Ha ereditato però Ha ereditato però ha anche detto lì ci sarà un Ministro ogni settimana, li portiamo ormai sono passati 4 mesi, i Marò ormai li vanno a trovare i Ministri regolarmente in gita in India Sì, è ricordo sulla Pinotti potenziale Presidente della Repubblica? Se dipendesse da me non lo diventerebbe Tuttavia devo dire che è una signora per bene, molto corretta e è noto che venga indicata come una probabile candidata a succedere a Napolitano Credo che non cascheremmo dalla padella nella braccia ma potremmo anche avere una novità di qualche interesse Anche se la Presidenza della Repubblica andrebbe modificata esattamente come andrebbe modificata la Presidenza del Consiglio E quando si dice che le riforme non interessano alla gente normale che lavora si dice la verità Però è anche vero che se tu non modifichi l'assetto istituzionale non riesci a funzionare questa scassatissima Repubblica che non è sfinita ma è finita Grazie 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 a tutti